Continuiamo la nostra serie su Vim e NeoVim andando a vedere un po' di modi per muoverci all'interno del testo. Penso che questo video possa esserti utile anche nel caso in cui non utilizzi Vim o NeoVim ma un altro editor ed installi un plugin per avere i movimenti di Vim. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Torniamo al nostro Vim.tiny con lo stesso file che avevamo visto nello scorso video. Ti dico già che in questo video vedremo molte cose, quindi ti consiglio o di prendere appunti o di riguardare questo video qualche decina di volte mentre fai pratica, così aiuti anche l'algoritmo di questo video popolare. Ok, vediamo quindi un po' di modi per muoverci all'interno del testo. Iniziamo con la G maiuscola che ci porta a fine file. Per tornare all'inizio del file il comando è gg. Ora, se io voglio spostarmi su una determinata linea all'interno del file ho due modi possibili, ma prima vediamo di mostrare i numeri di linea, così è tutto più semplice. Per mostrare i numeri di linea vai in command mode col tasto due punti ed hai il comando set number. Dicevo quindi, se voglio andare ad un certo numero di linea, posso o in normal mode scrivo il numero di linea seguito dalla G maiuscola, per esempio 20G per andare alla linea 20, oppure in command mode scrivo semplicemente il numero di linea e premo invio. Per esempio, per andare alla linea 147 scrivo due punti 147 invio. Personalmente utilizzo molto di più il secondo metodo rispetto al primo, per due ragioni. La prima è che in command mode vedi chiaramente il numero che stai scrivendo e se fai degli errori puoi usare il tasto backspace per correggere. Ma la seconda ragione più importante, secondo me, è che scrivere un numero prima del comando G è un'eccezione alla regola. Più avanti vedremo cosa intendo. Puoi usare i tasti page up e page down per andare su e giù di una pagina, come in qualsiasi altro editor. Ma se non vuoi spostare le mani dal centro della tastiera, puoi ottenere lo stesso risultato con i tasti ctrl f, ricorda f come forward, per andare giù di una pagina, e ctrl b, ricorda b come backward, per andare su di una pagina. Puoi anche andare su e giù solo di mezza pagina con i tasti ctrl u, ricorda u come up, e ctrl d, ricorda d come down. Questi sono i movimenti base, diciamo, per muoversi in verticale all'interno del testo. Vediamo ora i movimenti orizzontali all'interno della linea. Il tasto dollaro ti posiziona a fine linea. Il tasto zero ti posiziona all'inizio della linea. Il tasto caret, o cappelletto, che dire si voglia, ti posiziona al primo carattere non vuoto della linea. Il tasto w minuscolo ti porta alla parola successiva. Ricorda w come word. Ora, che cos'è una parola? Saresti tentato di dire che è una sequenza di caratteri separati dagli spazi, ma Vim non la pensa allo stesso modo. Dove pensi che vada il cursore se premo w un'altra volta? Proviamoci! È quello che ti aspettavi? Secondo Vim, una parola è una sequenza di lettere, numeri e underscore. Quindi, tutti i segni di punteggiatura non sono considerati una parola. Ed il tasto w ti porta o alla parola successiva o al segno di punteggiatura successivo. Premiamo w un altro paio di volte per capire come funziona. In realtà, la definizione che avevamo dato inizialmente di parola, cioè una sequenza di caratteri separati da degli spazi, può risultare comoda in molti casi. Per questo, il tasto w maiuscola ti porta proprio all'inizio della prossima parola dopo uno spazio. Possiamo anche andare indietro all'inizio della parola. E puoi andare indietro di parola in parola con il tasto b. Ricorda, b come beginning. Anche qui, la suddivisione delle parole è la stessa che con il tasto w. Secondo te, quindi, cosa succede se premo la b maiuscola? Esatto, vado all'inizio della parola separata da spazi. Finiamo questa serie di movimenti attraverso le parole parlando del tasto e che ci porta avanti alla fine della parola e se ripetuta alla fine della parola successiva e così via. Ricorda e come end. Anche qui, se premo la e maiuscola, vado a finire esattamente prima del prossimo carattere di spazio. Quindi, ricapitolando, ricordiamoci w per word, b per beginning ed e per end. E a seconda se sono maiuscole o minuscole, intendono parole separate da spazi oppure separate da punteggiatura. Ma torniamo in inizio linea. Un altro movimento orizzontale molto utile è quello del tasto f. Ricorda, f come find. Funziona così. Premi il tasto f seguito da un carattere ed il cursore si sposterà sulla prossima occorrenza del carattere. Facciamo un esempio. f parentesi aperta ti porta al prossimo carattere di parentesi aperta. Oppure, f o maiuscola ti porta al prossimo carattere di o maiuscola. Se la f è maiuscola, invece che portarti avanti ti porta indietro. Per esempio, f maiuscola parentesi aperta ti porta alla parentesi aperta precedente. Oppure, f maiuscola i ti porta al carattere i precedente. Molto simile al tasto f c'è il tasto t. Ricorda, t come till, diminutivo di until. Il tasto t si comporta quasi come il tasto f, ma invece che portarti sul carattere selezionato, ti porta su quello appena prima. Per esempio, t parentesi aperta ti porta appena prima della prossima parentesi aperta. Esattamente come per la f, se la t è maiuscola va indietro. Per esempio, t maiuscola e maiuscola ti porta appena dopo la e maiuscola precedente. Ricapitolando, f come find, t come till. Se sono minuscole ti portano in avanti, se sono maiuscole ti portano indietro. Sebbene esistano altri movimenti in Vim, e io uso ancora almeno altri due, direi che per questo video può bastare così per non mettere troppo a carne al fuoco. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!